buongiorno cucù a parte gli scherzi amici miei oggi sono in un posto bellissimo sono a casa di un amico lui non c'è vengo qui perché c'è un bellissimo gatto da udire bell'orto da completare purtroppo non ha iniziato a fare tutto perché devo lavorare il terreno non ho le attrezzature grandi e quindi si sta aspettando un po che sia giusto il tempo quindi c'è da lavorare c'è da fare tanto e io in campagna mi diverto tantissimo devo dire la verità mi diverto tantissimo poi c'è il mio gatto qui rezzino che mi fa tanta compagnia ma non è di questo voglio parlarvi oggi oggi voglio parlare di tante cose però non voglio tediarvi vi terrò solo in considerazione di una cosa soltanto parliamo di queste scorie le famose scorie radiattive qui naturalmente ci sono i faziosi che dicono no e va bene perché 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 va bene perché i loro beniamini stanno lì al governo non si toccano qualche cosa succede sono qui mi piego 90 gradi fammi quello che vuoi e quindi vabbè lasciamo stare non mi va di essere volgare oggi è scorse un altro ma perché per colpa tua dobbiamo prenderlo in quel posto tutti quanti nel 2015 o forse anche prima c'è stata una manifestazione contro il nucleare manifestazione che è stata accolta nel potere anche il nostro sindaco che ha rinnovato la sua carica quindi sta anche adesso sindaco di gravine quindi stava anche allora si è ricordato benissimo perché era lui che uno dei di quelli che la capeggiava e quindi noi abbiamo detto non nucleare questi furbacchioni non hanno fatto altro che prenderci in giro hanno detto va bene intanto ci teniamo la cosa giustamente i signori che sono adesso al governo si sono ben guardati dal toccare certi argomenti perché altrimenti qualche pezzo grosso li avrebbe fatti saltare quindi se vogliono salvarsi e restare attaccati alla poltrona come sto io a me una poltrona di campagna a me è però non so quando gli conviene per quella poltrona hanno calpestato anche i loro genitori i loro parenti più cari la politica è brutta è bruttissima e quello che voglio dirvi io questi qua sotto sotto hanno continuato e alla fine si è scoperto e quei siti che noi avevamo a cui avevamo detto no sono gli stessi siti che oggi vediamo quindi stanno rifacendo il tentativo di affibbiarci scorie radioattive ma io voglio dire scusate sto come dire la trasmissoria un po brutta ma io voglio dire a queste persone ma vi rendete conto ma noi vi diamo dei soldi vi diamo lavoro lavoro a chi ai nostri affiliati ingegneri giovanotti giovanotte che magari hanno votato 5 stelle hanno votato pd hanno votato ci voglio diamo uno stipendiuccio prendiamo una bella area panoramica bellissima e la distruggiamo seppellendo rifiuti radioattivi che sono in maggioranza rifiuti delle centrali nucleari dismesse tempo fa come mai la francia quei rifiuti li inserisce nelle alpi bello in profondità dove non danno fastidio a nessuno no dobbiamo andare a sud perché sud è povero e noi gli diamo dei soldi e del lavoro lavoro non per tutti solo per chi vogliono loro per gli altri c'è solo morte esatto morte qualunque tipo qualunque tipo qualunque tipo la vetrificazione qualunque tipo voi voleste fare per seppellire questi rifiuti ricordatevi la radioattività è eterna il contenitore no la morte è solo rimandata perché dobbiamo sorbirci questa morte non ci basta già il triangolo altamura gravine santeramo uno dei principali triangolo di cancro leucemia e tiroidi diamo la colpa cernobil non posso fare nomi e a me potrebbe anche essere colpa dei rifiuti smaltiti in modo riuscito negli anni scorsi poi vi vengono a dire gli attuali cinque stelle pd che stanno al governo non è con non è stato colpa nostra è colpa del governo precedente e allora voi che state a fare se il governo precedente ha fatto degli errori voi dovete correggerli il popolo italiano vi paga per correggerli non per stare lì a non fare niente prendere lo stipendio a questo punto non servite a niente non dovevamo fare la riduzione della dei deputati senutori vi dovevamo cancellare proprio perché voi fate solo danno e soprattutto al sud vergognatevi il sud muore per colpa vostra e per colpa di chi li ha votati e di chi li appoggia ancora si prostra ancora i loro piedi perché gli ha promesso qualcosa questo è il problema la promessa voto di scambio sì voto di scambio tempo addietro a tarando si diceva che era una c'era miseria quindi diamogli l'ilva o lavoro per tutti e cancro per tutti gli altri e oggi si muore di cancro e non mi mette a dire ma tanto taranto sta lì gravine sta lontano da taranto non è vero il vento quello che succede a taranto anche se in misura minore lo porta anche qua parliamo delle perforazioni nell'adriatico in basilicata ma tanto in basilicata non è vero ogni perforazione inquina nel raggio di 500 chilometri quindi non è che non mettiamo i rifiuti nucleari in puglia e basilicata li andiamo a mettere in sicilia no se ne devono andare da qua se ne devono andare è stato individuato così di piemonti metteteli là i soldi dateli a loro ma io voglio vedere mia figlia crescere non ho paura di morire ma perché devo morire per colpa degli stupidi di un cancro di un tumore alla tiroide di una leucemia o vedere mia figlia peggio peggio un genitore che vede che seppellisce i figli per malattia o magari peggio ancora nascite alterate bambini e bambine che nascono con problemi di malformazioni congenite è questo che ci vuole regalare il governo italiano al sud non basta quello che ci hanno dato anche le perforazioni della basilicata fanno avvenire queste cose anche l'ilva di taranto ci volete dare pure questo adesso basta basta attenti che state giocando col fuoco non tutti sono disposti a prostrarsi adesso già stiamo sopportando malamente la cattiva gestione del covid cattivissima abbiamo a che fare con persone incompetenti che non sanno dove mettere le mani e per non parlare di chi dovrebbe obbedire alla restrizione non le fa cioè qui siamo completamente affidati alla alla buona coscienza della popolazione ci rendiamo conto l'italia l'italia è finita in queste condizioni mi avete costretto ad essere italiano io sono un duo siciliano mi costringete voi ad essere italiano perché dice l'italia unita ma l'italia voi non avete mai fatto l'italia voi ci avete invaso ci avete distrutto non ci avete li avete perché sono i nostri nonni e noi adesso stiamo pagando le conseguenze il sud è una colonia dell'italia il sud serve solo alla a una discarica voi non vi rendete conto un inquinamento nucleare al sud andrebbe a impattare in modo violento con quello che il sud ha di meglio l'agricoltura prodotti zootecnici pasta tutto c'è è una cosa incredibile chi comprerebbe più i prodotti del sud sapendo che sono sono contaminati la rete lavora a qualcuno ma milioni di persone li renderete disoccupati e morti di cancro vergognatevi e vergognatevi pure chi li appoggia buona giornata grazie a tutti